Vita monastica Abbiamo detto che uno dei modi per seguire Cristo è quello della vita eremitica, che poi può diventare vita cenobitica, che si chiama vita monastica. Non è tutto uguale, non è che i monasteri sono tutti uguali. I monasteri differiscono l'uno dall'altro per il genere di vita, dell'organizzazione della vita, perché sull'unica regola, quasi unica di San Benedetto o altre regole, i singoli monasteri si adattano con delle costituzioni che corrispondono all'ambiente in cui vivono, alla situazione in cui si trovano. Quindi i monasteri sono differenziati dal modo con cui conducono la vita e dal modo con cui realizzano la loro spiritualità. Esempio, una cosa sono i monasteri benedettini, una cosa sono i monasteri certosini, una cosa sono addirittura i benedettini cistercensi, un'altra cosa ancora sono i benedettini cistercensi trappisti. In maniera che ciascuno possa trovare in questa varietà di realizzazione della vita monastica quella che si confà di più alla propria personale vocazione. Tutti i monasteri però corrispondono a questo schema fondamentale. Dio al di sopra di tutto, Dio solo, monos, monaco, Dio al centro di tutto. Per cui al centro di tutto c'è l'ufficio divino solennemente cantato. Perché la vita del monaco, secondo San Benedetto, si divide in tre parti. Sette ore di preghiera, sette ore di lavoro e sette ore di riposo. Il resto è addetto ai servizi. E la preghiera è al primo posto. La preghiera è al centro della vita monastica. Poi c'è il lavoro, perché ora e te lavora è fondamentale, vivere del proprio lavoro. E poi il riposo, il necessario riposo, perché la vita monastica è caratterizzata da questo grande equilibrio con cui viene gestita la propria umanità. La vita del monaco, poi, è una vita che si muove tutta a ritmo di Dio. Al centro della giornata c'è l'Eucaristia. L'Eucaristia che si difana, poi, si allarga in tutte le ore del giorno attraverso le ore canoniche. Queste mattine viene celebrata la risurrezione, nelle lodi. A terza, la discesa dello Spirito Santo. A sesta, l'ascensione del Signore. A nona, la morte del Signore in croce. Ai vespri, Cristo, luce che non tramonta. La compieta, la sepoltura di Cristo, per potersi riposare e riprendere il via il giorno dopo. Tutto è impastato di lezio divina. La parola di Dio che informa tutta la giornata. E la Chiesa, tutta la Chiesa, è impostata in questi termini qui. Tutta la Chiesa. Quando ancora non c'era stata, non c'era l'urbanizzazione, veramente, nelle nostre campagne, nelle nostre piccole parrocchie, si viaggiava al suono delle campane, che segnavano le ore che nel monastero sono le ore canoniche. Questa vita monastica è aperta a tutti per poter essere vista, perché coloro che desiderano possano andare a vedere, esaminare, magari scegliere quella che personalmente, se hanno una vocazione, è fatta per lui, è fatta per lui. Sono le strutture al servizio dell'uomo, perché l'uomo possa mettersi al servizio di Dio. Buona scelta, se sei in ricerca. E attento a scegliere bene, perché dentro i monasteri ci sono uomini, accorgerai, profondamente realizzati e perfettamente realizzati, perché hanno trovato lì la loro vocazione e l'hanno portata a compimento. Grazie a tutti.